Mister, domani terza partita in sei giorni, quanto sarebbe importante tornare a casa col punteggio pieno? Molto importante perché comunque sono state tre partite, in un momento della stagione è molto faticoso e con due viaggi abbastanza faticosi, quindi riuscire a chiudere a nove punti sarebbe una cosa ottima. Io credo che sarà una partita, in pressa poco, uguale alle stesse che abbiamo giocato nei giorni scorsi. L'insidio è quella del campo, che comunque è in sintetico, quindi dobbiamo per forza allenarci oggi e domattina e vedere come reagiranno i ragazzi dopo due partite così difficili. Abbiamo preferito tenere qui giocatori che sono al 100% e quelli che erano un po' in dubbio di giocare o meno, abbiamo preferito rimandarli a casa sapendo che poi devono giocare tante partite e la nostra speranza è quella di averli sani, non dico freschi perché sarà impossibile, però sani al mondiale, all'europeo. Sei riuscito a realizzare cosa significa realizzare la prima rete in nazionale? No, sinceramente no perché, l'ho detto, noi diamo tante volte per scontato queste situazioni ma chi vive il calcio ancora di emozioni sono momenti fondamentali, ci metterò ancora un po' perché è un sogno che avevo fin da bambino ed è sicuramente una cosa che mi rimarrà sempre nel cuore. Il mister ci chiede di vincere e di giocare bene, è normale che sia così perché siamo una squadra forte e dobbiamo dimostrarla ogni partita.